Bella a tutti, benvenuti in questo nuovo breve video dove andremo ad analizzare Mesut Ozil questo giocatore che insomma in FIFA ha sempre avuto un overall molto alta ma di fatto non è praticamente mai stato utilizzabile, vuoi per il piede debole, vuoi per la velocità eccetera eccetera comunque in questa sua versione Anniversario Foot sembra essere diventato utilizzabile ma andiamo a vedere il perché allora un metro e ottanta quindi body type diciamo non risicato, grosso il giusto per un COC work rate nella media, mancino, 4 mosse abilità e 5 piede debole allora intanto vi chiedo qual è il costo di questa SBC alla regia nel frattempo che vado avanti con l'analisi poi andiamo a vedere velocità nella media per un COC accelerazione 86, velocità scatto 82 una buona finalizzazione 86 ricordo sempre che sopra l'85 vabbè freddezza 90 le stats di tiro sono così così perché 82, 81 però ribadisco per un COC ci può stare perché il compito principale del COC è quello di creare spazi fare filtranti, passaggi nello stretto eccetera eccetera andiamo a vedere appunto le stats di passaggio c'è addirittura 97 divisioni, cross che vabbè ci interessano relativamente passaggio corto 96, passaggio lungo 88 oltre che effetto 90 quindi per ora abbiamo un giocatore con una velocità non entusiasmante ma è ripeto un COC stats di tiro anche quelle nella media per un COC e delle eccellenti stats di passaggio il dribbling anche se a 92 non è proprio top come stats perché abbiamo appena 84 di agilità e sapete che quest'anno è molto importante che i COC siano agilissimi per creare spazi nello stretto per le punte che si smarcano nei pochissimi varchi disponibili un equilibrio 77 però per uno di un metro e 80 ci può stare però ha ben 90 di reattività 97 controllo palla 92 di dribbling il tutto abbinato ad un 83 di resistenza forse poca aggressività ora il discorso è questo per 200.000 crediti circa onestamente per quanto la carta sembri valida non lo sbloccherei a meno che non vi serve faccio un esempio per linkare la vostra Premier League con Boateng dico una cosa a caso perché nel mio caso io mi ritrovo lo slot del player che va a fare il CC davanti a Boateng che deve essere o un tedesco o uno da Premier e quindi in quel caso se mi servisse un COC ci potrei fare un pensiero anyway ricapitolando io non ci rispenderei 200k ciò non toglie che sia un ottimo COC che andrebbe utilizzato con un cacciatore come stile intese io vi ringrazio per l'attenzione ci becchiamo al prossimo video